Buongiorno Andiamo a vedere che gioca in Napoli Per il Napoli Per il Napoli Meret, Isai, Kiri, Keshe Koulibaly, Goulam Onas, Zelisky Diavora, Verdi, Mertens Insigne Gioca Mertens, Verdi, Isai Trikameda, Carlanciarotti Per saperlo dovete scaricare Se lo fa scorica ve lo lascio Comunque, gioca nel 7 In Napoli non era un po' Prima che gioca Giocava alle 9, non sono abituato Questi orari per il Napoli alle 7 Di poi settimanale Perciò ragazzi, vicino alla partita Adesso vediamo la maglietta E ragazzi, sempre comunque Forza Napoli, vicino al primo tempo, bella Ragazzi, inizio il secondo tempo Ecco qua la mia maglia Sto mettendo, ragazzi dai Forza Riga Ragazzi, crediamoci ancora Perchè stavano bene Ah, è giù Pressing, vai giù Se avete giocato con il Pressing però Bella Grazie 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 che insegnate dai il tocco del portiere e stava quasi per che tiro a te ragazzi è finita la partita finisce 5 a 1 in tutto e comunque Napoli si è sbloccato parecchio due vincitumi del primo tempo e buon Napoli dai ci qualifichiamo almeno e andiamo avanti in Europa League quest'anno abbiamo questo obiettivo comunque volevo salutare un fan di Youtube che mi segue Simone D'Ambrosio mi vuole salutare in questo video ciao Simone e noi ci vediamo alla prossima reaction e niente ragazzi se siete al canale seguitemi su Instagram lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima reaction e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo